Prosegue la maratona di solidarietà dei Curri e Mangia. Dopo il successo dello scorso 19 aprile, che ha visto numerosi partecipanti in corsa tra le vie del centro storico Nisseno per sostenere le mamme in rete della parrocchia di San Luca, i fondi raccolti durante la manifestazione sono diventati dei beni di prima necessità per i piccoli meno fortunati. Pannolini, indumenti, latte e biscotti sono infatti stati donati alle volontarie di mamme in rete, un progetto promosso dal parroco Alfonso Camarata a sostegno delle mamme e dei bambini in difficoltà economiche che provvederanno a distribuirli alle mamme bisognose della città. I Curri e Mangia hanno fatto centro, con Viviamo Caltanissetta abbiamo raggiunto gli scopi che avevamo in progetto. Siamo riusciti a raccogliere, tra sportive e non, tra mamme con bambini e non, più di 500 persone in piazza a Caltanissetta. Si è riusciti a percorrere, con 300 persone oltre, tutte le vie di Caltanissetta. Con questo facendo beneficenza. Cioè questo binomio tra essere in socialità e essere felici, facendo beneficenza. È una cosa splendida, meravigliosa. Quindi in Curri e Mangia siamo stra felici, siamo stra contenti, specialmente con i frutti che abbiamo ricavato da questa beneficenza, che oggi siamo qua nella parrocchia di San Luca, a donare col cuore veramente al progetto Mamme in Rete. Quindi a padre Alfonso Cammarata. Sono emozionato, grato a questi nostri amici dei Curri e Mangia, ecco per questo gesto che hanno fatto, dubbice gesto, di far vivere Caltanissetta con la sua bellezza del centro storico e tutte le vie, ecco, ma anche con la solidarietà. Mettendosi in rete tra di loro per organizzare ed entrando in rete, ecco, con questo progetto Mamme in Rete, ecco, che porta avanti la parrocchia a San Luca, grazie a tante mamme che hanno dato la loro disponibilità, ecco, si sono messi in rete perché da soli, ho sempre detto da soli, non si possono aiutare le persone, non si possono dare le risposte. Insieme possiamo dare tante risposte, possiamo dare un valido contributo perché questa crisi possa essere, ecco, superata insieme, con tanta speranza, tanta gioia e quindi il mio grazie, ecco, ai Curri e Mangia, loro saranno sempre in benvenuti, anzi ho detto loro che la possiamo organizzare ogni domenica di queste iniziative, ecco, a parte lo scherzo, grazie, perché è un segno veramente di vicinanza nei confronti di chi ha bisogno e sono soprattutto i piccoli.